Una giornata di unità nazionale, bello! Ho visto delle polemiche sui giornali di qualcuno che non ha capito che qua bisogna combattere tutti uniti, se qualcuno a sinistra oggi non è venuto o se n'è andato perché c'era Salvini al ministro dell'interno, si è perso lui qualcosa perché è stata una bellissima giornata di speranza, di futuro, di giovani, di scuola, di educazione, di lotta a tutte le mafie quindi per me è un orgoglio esserci per la prima volta da ministro. Ma lei ha inserito l'appuntamento di Palermo in un volantì elettorale? No, io ho detto che ero a Palermo perché sono a Palermo, scusa, ho fatto le foto con 300 persone sono qua a parlare di mafia, di lotta alla mafia e sono orgoglioso di averlo fatto in mezzo a tanta bella gente e gli assenti hanno sbagliato, i Fave e gli Orlando hanno sbagliato. Non è stato fuori luogo allora inserire... Va bene, ti ho detto che sono a Palermo con orgoglio e gioia, non a chiedere voti ma a combattere la mafia.